La regione toscana ha intenzione di imprimere una forte accelerazione alla vaccinazione degli over 80 tale da arrivare ad aver somministrato a tutti la prima dose entro il 25 aprile e chiudere con il richiamo entro la metà di maggio. Una toscana organizzata ma che ha bisogno delle forniture adeguate di dosi vaccinali per tornare a ricollocarsi nella media nazionale, dichiara l'assessore Bezzini. Diverse le perplessità invece delle opposizioni che vedono in adeguato il piano vaccinale. Oggi noi siamo di fronte alla sfida delle sfide, quella di vaccinare tutta la popolazione ma se devo dire dalle tante domande che ricevo la questione più stringenti sono due, perché avete vaccinato gli avvocati e perché siamo così in ritardo sugli over 80 e molte volte le due cose vengono legate. In realtà non sono, non devono essere legate perché gli avvocati così come il personale scolastico delle forze dell'ordine venivano e vengono vaccinati col vaccino AstraZeneca mentre per gli over 80 è possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Noi oggi abbiamo somministrato già più di 428 mila dosi di vaccino Pfizer e sono circa, ne abbiamo utilizzato, l'88% delle dosi ricevute, 234 mila agli operatori sanitari, circa 31 mila agli ospiti delle RSA e più di 100 mila agli over 80. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo e allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario di chi è in prima linea. È evidente che ora bisogna accelerare sugli over 80, ne sentiamo tutta la responsabilità. Bene ha fatto il Presidente Gianni a dire che entro il 25 di aprile devono essere tutti vaccinati, arriveranno 50 mila dosi in questa settimana e le faremo tutte entro venerdì. Noi siamo molto attenti a vedere se davvero i medici di medicina generale riusciranno a farlo. Se non ce la fanno loro allora entreremo in gioco noi con gli hub, 30 hub sul territorio e poi 70 mila la settimana successiva. La sensazione che abbiamo, questo per tutti quanti, è che le tre ASL si stiano muovendo in maniera totalmente diversa. Quindi come se non ci fosse una linea unica regionale ma ogni ASL si stia muovendo per conto proprio e questo ovviamente porta anche disparità perché quando ci troviamo a confrontarci in aula ma anche nelle commissioni piuttosto che con l'assessore ci viene detto nell'ASL centro si fa così, nell'ASL nord-ovest si fa diversamente e io credo che questo non sia il metodo per lavorare. Ci vuole oltre ad avere gli spazi e l'organizzazione adeguata che ancora manca ci vuole anche una programmazione che sia efficiente ed efficace. Noi speriamo che in questi giorni si attivi la regione, l'assessore Gianni insieme alle ASL per garantire gli spazi e l'organizzazione e anche per buttare giù un calendario di tempistiche che sia opportuno. Scaglionato per fasce d'età certo, con però la velocizzazione anche delle professionalità che devono andare a vaccinare e nel caso l'utilizzo anche degli USCA laddove non arrivino i medici di famiglia per esempio sugli anziani che sono nelle abitazioni. Serve cambiare metodo, serve migliorare, la Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come il numero di persone vaccinate o vedi 80, sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid sono le persone più fragili, i fragili fra i fragili ho definito e queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente entro Pasqua, abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida, abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile, abbiamo chiesto un'azione tempestiva. L'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema di vaccini ci ha detto che eravamo molto bravi, che eravamo i primi, che eravamo i migliori, il che sinceramente conta poco. In realtà scopriamo purtroppo, ahimè e non vorremmo averlo appreso, che la Toscana invece non è per niente la prima ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80 sia rispetto al numero di persone vaccinate rispetto all'intera popolazione. Però nel frattempo si è vaccinato scansi. Ecco, allora noi riteniamo che su questo l'assessore Bezzini probabilmente qualcosa da dirci ce l'avrebbe avuto, ci sarebbe piaciuto sentirlo, in realtà il tema vaccini è fuori dal Consiglio regionale, quindi siamo molto preoccupati, vorremmo avere delle risposte. È inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti. Ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi, perché sono insieme ai super fragili malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità cinque volte superiore a tutti gli altri e lo dobbiamo fare anche a casa. Poi dobbiamo fare lo scudo penale per chi va a vaccinare. Ecco perché abbiamo portato questo pacchetto di proposte all'attenzione del Consiglio regionale. Ci auguriamo che tutte le forze politiche lo votino, perché abbiamo bisogno di un'accelerazione, perché prima fermiamo l'emergenza sanitaria, prima ripartiamo con la ripresa economica. La Fondazione Gimbe parla chiaro con i suoi numeri. A fronte di una media del 14,7% dei vaccinati over 80 in Italia, la regione toscana è a 5,3. Questi sono dati di ieri. Quindi la narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni che stiamo procedendo spediti non è così. Riguardo le vaccinazioni complessive siamo circa a metà classifica in Italia. La nostra proposta di inchiesta, diciamo di commissione di inchiesta specifica sui vaccini, come l'avevamo proposta noi in Movimento 5 Stelle, era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta organismi della sanità, medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace. Ci dispiace che sia stata rifiutata, io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti. C'è un sistema che non è rispondente alle esigenze del cittadino e va analizzato e cambiato. La capacità di erogare i vaccini c'è e su questo infatti la regione ha dei risultati positivi. Mentre non sta andando bene siamo in ritardo sulla vaccinazione degli over 80 e questo ritardo nelle prossime settimane verrà recuperato. In questa settimana sono in distribuzione 46.000 vaccini, 70.000 vaccini la prossima settimana. Insomma intorno a Pasqua arriveremo a oltre 200.000 anziani over 80 vaccinati su 320.000. Oggi aprono le prenotazioni per gli estremamente fragili, una parte dei quali sono già stati vaccinati dalle strutture che li hanno in carico. La situazione è sotto controllo, ovviamente i piani erano che si sarebbe dovuto avere dei risultati più importanti sulla vaccinazione dei fragili in questa fase. Noi infatti come commissione abbiamo chiamato a riferire su questa situazione l'assessore Bezzini che nella prima commissione utile, cioè quella del 31, verrà a riferire sullo stato di attuazione del piano vaccinale. Superare il nodo del digital divide, assicurare la manutenzione delle reti stradali, tutelare e valorizzare il patrimonio forestale e rurale, adeguare l'offerta di destagionalizzazione turistica, dare sostegno all'imprenditoria locale, mettere in campo misure per assicurare una dotazione minima di servizi, sono queste le priorità verso le quali la regione dovrà indirizzare i propri interventi a sostegno delle aree interne, contenute in una proposta di risoluzione sulle misure di sostegno delle aree interne della Toscana a seguito della crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia da Covid-19. Dobbiamo dare dei segnali concreti in regione e a Roma. Noi oggi abbiamo detto alla Giunta e anche al Governo e l'abbiamo fatto tutti insieme, d'accordo, quelli che sono le priorità per questo 2021, che è un 2021 di ripartenza. Alcuni punti che abbiamo posto all'attenzione, innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, all'Unione dei Comuni per alcuni progetti. 15 progetti erano meritevoli di finanziamento ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte o il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve ci sono ancora 300 mila euro di richieste, potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale. Noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare, visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale, sul ricambio generazionale, sul tema della forestazione e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane. Abbiamo fatto alcune richieste anche al Governo, in particolare per la Miata e la Val di Cecina, non sono state finanziate. Noi chiediamo al Governo di finanziarle. Ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree. Perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa, quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una commissione per scoprirlo? La commissione aree interne, che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al Governo. Si continuano a fare soltanto chiacchiere. Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana, che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il Governo, lo può fare la Regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola. E invece bisogna che la gente rimanga in montagna, perché solo vivendola la montagna può servire anche alla città. Giusto che ci sia questa commissione che per ora ha fatto una proposta votata all'unanimità in Consiglio e poi piano piano vedremo quali saranno le soluzioni da prendere. Inoltre ho chiesto anche al Presidente Nicolai, e lo stanno facendo, che gli uffici compilino una specie di elenco di tutte le questioni che riguardano le zone montane, che sia di più facile consultazione anche per noi commissari per capire meglio le problematiche e in che modo si può incidere per aiutarli. Via libera maggioranza al bilancio preventivo economico 2021 per IRPET. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza, trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca, nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa, proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi, con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio, in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019. Sul bilancio di IRPET abbiamo votato contro, perché c'erano molte cose che non ci tornavano. A partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo, siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale, quindi sui soldi che devono essere dati al personale, e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze. È inaccettabile che un ente partecipato dalla Regione Toscana porti un bilancio in questo modo. E in più chiediamo ad IRPET anche di fare un cambio di qualità, e lo chiediamo anche alla politica, cioè di mettere in relazione quelle che sono le nostre agenzie con i dati di IRPET, perché ad oggi assistiamo in Regione Toscana a troppe agenzie, ma soprattutto che sono tutte scollegate fra di loro. Occorre coordinamento. Abbiamo delle perplessità, per esempio il grande numero di consulenze che serve. Io credo che queste consulenze andrebbero internalizzate per avere anche modo di utilizzarle sotto i vari fronti di cui la Regione Toscana avrà bisogno nei prossimi anni. IRPET può servire, ma sicuramente le spese fatte ora ci fanno capire che forse non è impostata nel livello ottimale. Sta facendo un lavoro importante, sicuramente lo dovrà fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dovrà soprattutto calcolare, studiare, comprendere gli effetti della pandemia. Ridisegneremo una Toscana nuova, deve essere uno studio importante perché deve essere propedeutico al nostro nuovo piano di regionale di sviluppo che dovrà collegarsi con i finanziamenti comunitari e con i finanziamenti dei recovery plan. Quindi una Toscana che sicuramente uscirà diversa da come è entrata in questa pandemia, con delle situazioni che avranno in alcuni casi peggiorato al proprio status economico più di altri e su questo dovremo costruire i prossimi piani di programmazione regionale. Oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio dove le voci di entrata di spesa ormai sono consolidate. IRPET parla soprattutto a causa della pandemia, della necessità di ricostruzione. Una Toscana che guarda al 2020. Sulla base degli studi di IRPET noi stiamo lavorando per far sì che possano esservi delle sollecitazioni. Credo che il voto della Lega sia un voto di maturità. Grazie. Grazie.